Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Anche se lo abbiamo visto sempre presente sul palco a portare avanti il suo amato lavoro, questo non vuol dire che Eros Ramazzotti non abbia conosciuto anche momenti particolari. Difatti, come tanti altri volti del mondo dello spettacolo, anche lui ha attraversato periodi difficili. Ad un certo punto, la salute di Eros Ramazzotti, infatti, subisce un duro colpo. La sua mano sinistra viene colpita da una patologia chiamata rizoartrosi, e che ha colpito nello specifico il suo pollice. La rizoartrosi è una patologia meglio conosciuta come artrosi del pollice, e colpisce precisamente l'articolazione trapezio-metacarpale della mano che si trova alla base del dito. Il problema gli impediva l'utilizzo della mano e quindi la possibilità di cantare, utilizzando contemporaneamente la chitarra. Subito dopo l'intervento, aveva dichiarato, intervento di rizoartrosi alla mano sinistra perfettamente riuscito. Sarà una notte tosta, ma non mollo. E poi la lunga degenza, ritornerò presto, lo giuro. Così è stato, in quanto, dopo questo intervento avvenuto nel 2017, Eros Ramazzotti è tornato più forte che mai. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.